Io facevo la guardiana delle armi, la magazziniera. Io uscivo sul balcone della casa dove abitavo, mi arrampicavo sui tetti e passavo tre o quattro complessi, tre o quattro case e arrivavo alla chiesa dove mettevo le armi nella cupola. Entravo dentro e lì le mettevo perché man mano che le conquistavano, le requisivano, le avevano in qualsiasi modo, me le portavano e io le conservavo e basta. E poi le davo quando, cioè erano loro che venivano a prenderle quando ne avevano bisogno. Ma i paesi della Toscana sai come sono, no? Un po'. Le case sono tutte collegate le une alle altre. E non so spiegarti accidenti. No, no, ho capito. Comunque io passavo per i tetti e andavo a mettere queste quattro case, passavo e poi mettevo le armi. erano tutti muri, c'era questo balcone, un cortiletto tutto chiuso il mio, da Pianterreno. Noi eravamo al primo piano. Pianterreno era ancora a casa di mia zia e quindi non entrava nessuno. No, non andavo di notte. Per esempio, uno dei lavori che facevamo noi era la propaganda. Il paese era circondato da mura. C'erano quattro porte, quindi quattro manifesti. E li scrivevo sempre io. E alla sera li affiggevamo alle quattro porte. Andando poi il giorno dopo a leggere e si fermava tutta la gente a guardare a leggere. Dopo, naturalmente, il fascista ce lo tirava via. Però, ecco, la propaganda la facevamo specialmente in quel modo lì, perché tutti leggevano, meno i contadini che stavano... Ma tutto il paese sapeva quello che noi volevamo dire. E una volta ho persino scritto in fondo al foglio «Chi strappa questo foglio viverà poco. Pensa a te che incosciente che ero! Io cosa avrei fatto?» E a un certo punto, in uno dei manifesti, «Chi strappa questo foglio?» Avevo dimenticato la R. Insomma, ecco, sono tutte cose che... È la vita che abbiamo fatto, che era la vita che scorreva per noi, per loro che ne avevano tanto bisogno di aiuto, di qualsiasi cosa. Perché Salemi un giorno mi ha portato al comandante, dove c'era un comandante più di lui, non so chi fosse... Ah, quello della... La brigata era Sparta, Sparta con Lavagnini. Il distaccamento era Ovidio Sabatini. E mi ha portato dal comandante di questo distaccamento. E così io avevo una pera in mano, stavo mangiandola, e quando sono arrivata lì, piacere... Come ti chiami? Marta. No, non ti devi chiamare Marta, devi scegliere un nome di battaglia. Perché poi Marta lì, mi conoscevano tutti per Marta. Lui mi ha detto, eh no, devi scegliere un nome. E poi mi vede che mangia... Chiamati Pera. Pera, va bene. E così mi sono chiamata. Proprio un nome scemo, ma... Ecco, nel bollettino leggevo Fulmine, sai, quei nomi parecchi, si sono dati quei nomi così, di entusiasmo giovanile, ecco. Io non sapevo cosa fare. Sì. Sì.